Con l'arrivo della fase 2 anche il San Jacopo si riorganizza. Una riorganizzazione dei reparti in primo luogo, ma anche la nascita di un ambulatorio per i post-ricoveri dei pazienti colpiti da Covid-19. Un giorno attesissimo da tutto il personale, dopo oltre due mesi di emergenza sanitaria che ha travolto come uno tsunami anche la provincia di Pistoia. Nel momento più alto della pandemia i posti letto occupati da pazienti con coronavirus erano 161. Oggi quelli disponibili sono meno della metà, 60 di cui 16 destinati all'approfondimento diagnostico. Qui si sommano poi altri 10 per la terapia intensiva. Ad oggi i ricoverati per Covid-19 al San Jacopo sono solo 18. Vedo staccare il nastro sul pavimento che delimitava una delle aree che avevamo allestito ad area Covid e il setting C dell'area medica che è ritornato ad essere area no Covid. Tutto il personale era molto emozionato e diciamo che tutti hanno partecipato con molta passione, molta empatia anche a gestire tutti i nostri pazienti Covid. Per cui ritornare, ridare una porzione di ospedale, farla tornare ad una situazione di normalità è stato veramente molto emozionante. Altra novità è poi l'ambulatorio del follow up per il controllo dei pazienti Covid dimessi. All'intento proprio di seguire nel tempo questa tipologia di pazienti che appunto si è ritrovata a combattere con una malattia poco conosciuta. Per cui ecco anche il seguire nel tempo l'evoluzione della sintomatologia, l'evoluzione quindi dello stato clinico dei pazienti che sono stati ricoverati diventa importantissimo.